E' bello a tutti lupocchiotti, chi vi parla è il vostro chiodo wolf e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere oggi siamo su uno dei giochi più leggendari che si sia mai visto al mondo sto parlando di parte di Half-Life 2 Episodio 2, sequel del primo Half-Life 2 Episodio 1 e prequel di Half-Life 2 Episodio 2. Prima di iniziare questa nuova serie vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. vi invito anche a passare sui miei profili social, a lasciare un commento sotto i video e a condividerlo con amici o parenti che ne appena metta e anche a passare sulle altre mie serie tra cui attualmente Far Cry 3 Bloodragon e anche le altre mie serie che ho conosco. Comunque andiamo ad iniziare, già io diciamo che questo gioco ce l'ho provato, però comunque andiamo avanti. è un po' di più questo è quello che si sente Sì, è vero. Grazie a tutti. 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 Come in. Grazie a tutti. 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 In èersi. a tutti. Cuocện. A tutti. Viömbrano. ali. Lefiro. E' un po' di pezzo, mi piace Dio! E' un po' di lunga cosa! E' un po' di nuovo! E' un po' di lunga cosa! Non dovevo intrammarli, però... Ah, ma si è notato a me che stava alzato, io gioco il problema stranato! Ah, ok! Oddio! Un po' di volo! Tu c'è un po' di miedo! Un po' di nuovo! Un po' di nuovo! Un po' di nuovo! Ah, è un po' di nuovo! Sì, vabbè! Oh! Oh! So cool! So cool! I think I did this! Wah, wah, wah! Oh! 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 Oh, what are you, now? Allora? no 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 perchè c'è una pizza c'è una pizza dai stanno qui si and uness ascoltare sentit son ses il E' un po' più attivo, spero di mille ore c'è l'esercizio da viettothosso a parlare dopo. Stavo un pochissimo ascoltando la situazione in questo livello. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, come a solito vi invito a lasciare un commento e vi piace. Aspiro di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Vi invito anche a lasciare un commento, a passare sui profili social. Vi invito anche a passare sui profili attimi serie tra cui l'attuale Farcrasire e Blood Dragon, le precedenti serie che ho già completato e l'attuale serie La Tara dell'Opogrigio dove andrò a parlare un po' di diversi argomenti che riguarderanno sia il canale che il nostro. Va bene, dopo altri no, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!